un errore, vediamo come andrà a finire, di sicuro Martegli è molto aggressivo nell'invocare Curva 1, Pagani non è da meno, ancora fantastico l'ospettacolo delle due vetture, molto molto vicine, sono due vattici, sono finali, questi filoti, il Bolognese, Martegli e il Varecino Pagani sono sicilissimi, separati da un'Università mentre entrano in Curva 4 per entreranno Inizio chiede il Varecino, ma anche le Pagani e Cristian Martegli che si scambiano